La notizia è che l'Università di Pavia conferisce la laurea honoris causa all'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Io personalmente non voglio entrare nel merito delle scelte compiute dall'Università, in quanto ritengo il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico di altissimo livello, il Rettore è una persona equilibrata che sta facendo e sta lavorando per il bene dell'Università. Però diciamo che questa scelta lascia tutti un po' perplessi, ma non lascia perplessa solo la politica italiana, ci lascia perplessi come cittadini. Sappiamo tutti benissimo qual è il percorso politico che ha fatto e che ha avuto questo ex Presidente della Repubblica, attualmente Senatore, a vita. Sappiamo benissimo che il governo Monti, il governo Letta e il governo Renzi sono tre governi che arrivano grazie alle decisioni univoche prese da questo ex Presidente della Repubblica. sappiamo benissimo che se gli italiani dovessero valutare l'operato dell'ex Presidente Napolitano non lo valuterebbero in modo più che positivo. Quindi io penso che oggi come oggi, più che dargli una laurea a honoris causa, bisognerebbe chiedere i danni a questo ex Presidente della Repubblica che ha fatto tutto di testa sua e ha portato l'Italia nelle condizioni in cui siamo.